Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video, in questo video volevo farvi un video shopping voi l'avete visto uno da poco, relativamente poco, in realtà io non faccio shopping da mesi, mesi, mesi cioè di vestiti o di cose così, comunque un po' futili, era da un bel po' che non le facevo postazione diversa, sono a Bergamo, sapete che questa è la location di Bergamo e iniziamo subito perché ho un po' di cosine da farvi vedere prima di tutte vi faccio vedere questo sacchettino qui, che in realtà non l'ho preso d'Oreo l'ho preso a Oreo, è Oreo al serio, che è appunto il centro commerciale che è di fianco all'aeroporto qua a Bergamo, quindi credo che sia abbastanza famoso comunque ok, questo qui non l'ho preso a Oreo, l'ho preso qua vicino a casa mia la mia profumeria, Tai Mi Ama, questa qua è un bel, è davvero un bel, bel negozietto perché ci sono tutte cose bio vabbè è una bio profumeria, però ci sono anche tantissimi prodotti di make up anche le nuove uscite, infatti qua dentro c'è un Matte Liquid Lipstick Dreamy ma quanto è bello il packaging, vi giuro che è stupendo cioè io quando l'ho visto, cioè mio Dio che colore ho preso? Ho preso Carnel la cosa che però non mi è piaciuta tantissimo è il fatto che ci sono solo 3 ml di prodotto 3 ml sono davvero pochi, per 9 mili e Carnel era francamente l'unico colore che mi interessava e poi ho provato anche Unspoken che è molto molto simile a Vampira di Kat Von D però secondo me Vampira di Kat Von D è un po' più scuro mentre Unspoken è un po' più sul rosso e ho provato anche Narcotic allora, io vi giuro che stavo per prendere anche Narcotic che mi piaceva tantissimo ho fatto una foto e ho fatto vedere a mia mamma, al moroso e alla mia amica e il moroso è bellissimo e la mia amica e mia mamma mi hanno detto terribile mia mamma mi ha detto sembri Marilyn Manson quindi alla fine ho preso solo Carnel e è un colore molto carino non mi fa impazzire nel senso che pensavo fosse molto più bello però mi piace molto come mi sta su vedo che però ci mette un po' ad asciugarsi si stendono bene e hanno un odore fantastico vi giuro io lo amo, lo straamo questo odore l'ho tirato fuori è buonissimo questo prodotto qui che mi serviva è appunto ultra dolce balsamo crema 96% biodegradabile ha la mandorla dolce e il firri di loto questo è qui ed è appunto un balsamo per tutta la famiglia so che appunto ha un buon inchi eccetera eccetera quindi l'ho preso vediamo non ho mai preso balsami della Garnier sinceramente quindi sarà il primo che provo poi ho preso questo qui però appunto non l'ho preso ce l'avevo già da un pochino ve lo faccio vedere perché volevo parlarvi un pochino anche di questo prodotto qui questo pennello qui è della Wet n Wild costa 1,99 mi sembra e comunque come prezzo è buono come pennello non è male la cosa che però non mi è piaciuta è che il pennello si sporca qua vedete che e l'ho lavato due volte tre volte se mi ricordo per cercare di farlo andare via all'interno ma non va via quindi è l'unica pecca e ha appunto queste setole bianche e le setole rosa sopra molto carine questa è l'ener è qui da Kiko l'ho pagata 5,95 ed è appunto della collezione per i vent'anni una delle collezioni per i vent'anni di Kiko ed è Tropic Heart e la particolarità è che questa appunto qui che vedete poi quando si seccherà voi la tirate fuori la girate e ne avete un'altra identica all'interno in modo tale da sfruttare tutto il prodotto che c'è all'interno genialata cosmica perché a me mi sta proprio qui il fatto che io uso solamente i liner in penna perché li trovo molto semplici da utilizzare praticamente ho scoperto anche una cosa nuova che magari potrebbe servire anche a voi io quando adesso finisco nei liner tiro via la punta la tiro proprio fuori la giro e la rimetto dentro non è la stessa punta è molto più dura è molto più rigida ma io la taglio in modo tale da farla diventare leggermente più cioè più sottile in modo tale da fare una riga una riga decente per continuare a sfruttare le liner fin quando davvero non si scarica qua la bottega di arti stanno vendendo questo affarino qui che è l'anello potra smalto io l'avevo già visto in giro comunque già ne avevo sentito parlare bla 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 ed è molto carino color tiffany voi ci infilate dentro il coso e non esce cioè proprio a queste cose che fanno in modo tale che non esce e ve lo mettete qua e vi mettete lo smalto secondo me è molto comodo francamente potevo trovarlo anche in altre parti tipo su aliexpress però ho preferito dargli la bottega verde ai miei soldi e costa 4,99 euro poi ho preso una cosa per mia mamma io c'è è tipo una cosa impossibile io non compro mai niente mia mamma a parte che lei non vuole mai niente quindi cosa le compro ecco e le ho fatto un regalo per la festa della mamma le ho preso questo rossettino qui che è di glossip dato che da bottega verde stanno vendendo i rossetti duo lipstick di glossip e gli ho preso la colorazione 03 luxury dickstreet perché gli ho preso proprio questo perché in realtà lei e in realtà ho andato fuori per queste cose e ho detto ma che figata perché lei mette sempre il rossetto con la matita lei voleva questo qua fucsia io però appunto sono andata su internet ho guardato un po' le recensioni tutti dicevano che non si vedeva il contrasto e allora l'ho convinta a prendere il rosso mi sembra che sia il numero 04 invece che 03 e lei alla fine mi ha ascoltato lei continuava a dire non lo so è per pesco il fucsia non c'è più il fucsia però mi sembrava inutile perché se non si vedeva il distacco che cosa lo compri a fare alla fine ha preso il rosso quando è arrivata non le è piaciuto tantissimo e quindi non le piaceva neanche tanto la texture del rossetto non le la convinceva però alla fine glielo ho preso lo stesso io perché ho detto l'ho convinta a prendere il rosso però non le piace allora le prendo io questo qua che era quello che voleva lei costa 7,90 euro la tipa dato che ho preso queste cose mi fa ma se vuoi c'è se tu hai la tessera faccio no guarda mia mamma è legata la bottega vera tutta la vita e quindi è inutile che mi faccia la tessera cioè già le cose mi arrivano a casa già noi prendiamo sempre roba quindi è inutile no e le fa no ma te lo chiedo ce la fai così tanto per anche perché ti diamo un pacchettino un pacchettino con le tue le robe e quindi ti conviene anche se appunto tanto non ti cambia niente perché così ti arrivano già a casa i catalogo allora dopo va bene dammi ho fatto la testa ci ho messo 3 secondi dentro ci sono 3 prodotti belli sostanziosi allora uno è nuovo ed è della FitoVital trattamento viso rimodellante giorno effetto volumizzante 3D con collagene marino uva di mare estratti botanici del Mediterraneo SPF 15 SPF fantastico e è questo prodotto qui sono ben 15 ml di prodotto cioè 15 ml di prodotto e si vede anche che è bello pieno bellissima cosa e poi c'è Argan del Marocco crema mani rigenerante nutriente 40 ml di prodotto io so che questa questa linea qui ha un odore che è divino davvero divino oddio è buonissima è proprio l'odore perché non è solo Argan è qualcos'altro non so miele qualcosa di magnifico qualcosa di magnifico e sono ben 40 ml di prodotto cioè ragazzi e poi questa qua che già ho già amo già ho preso eccetera eccetera peperosa crema corpo 50 ml di prodotto 50 cioè sono tantissime 50 ml di prodotto io la utilizzerò qua a Bergamo quindi la lascio qua tanto appunto le creme corpo le uso anche qui e se no si può utilizzare da viaggio però secondo me 50 ml per il prodotto preferisco portarmi dietro una provettina mi hanno dato 4 provettine anche e allora una e cioè due per mia mamma che per me mi ha detto la tipa poi questo qui è per me frattetto del sole che è un profumo io odio i profumi messi così in bustina ma lo utilizzerò lo stesso è quello che volevo io che non prendo perché avevo chiesto a Bottega Verde di rimandarmi il l'inci e non è non ha un buon inci purtroppo anche se non so se prenderlo o meno perché c'è il dimeticone però è a più di metà al punto che però c'è il dimeticone la cosa non mi piace comunque è estratto di bellezza crema fresca idratante pesca e albicocca per pelli normali questa qua i vestiti vi faccio vedere di Jennifer questa questa felpina qui intanto vi faccio vedere le felpe perché tanto il tempo fuori fa schifo siamo a maggio e il tempo fuori fa schifo e l'ho pagata a 9,99 euro allora l'ho vista la tua o meglio è bellissima la cosa che non mi convinceva era il colore grigio grigio pigiamino però chi se ne frega è veste molto larga quindi io ho preso la XS io che ho la M normalmente SM normalmente questa qui XS era perfetta anche la S cioè S e XS sono molto simili però è bellissima è qualcosa di stupendo questa felpa poi altrimenti vi faccio vedere la clip da Mango invece abbiamo quasi finito ho preso da Mango un paio di jeans jeans normalissimi blu blu scuro scuro e dietro c'è scritto che sono push up io non so che roba è di push up credo che sia questa cucitura qui così volevo parlarvi un attimo dei jeans di Mango perché secondo me sono i migliori in circolazione a parte naturalmente quelli mica costosi tipo Levis però in confronto ad H&M Stradivarius Pull&Bear tutti gli altri tutti a me mi sanno tutti di uguali tutti di poco cioè certo sono poco costosi ma anche la qualità è davvero bassa ma bassa bassa cioè che voi le lavate quattro volte e si allargano come chissà che cosa come quelle di teleguetri e la percentuale di cotone è dell'82% che è tanto cioè un jeans cioè non è jeans jeans però almeno non è un jeans finto che sembra semplicemente con una stampa sopra a me i jeans che li spacciano per jeans ma non lo sono non mi piacciono mi fai pagare un jeans 19,90 euro però con 10 euro in più ti vai a comprare un jeans che ti dura molto di più e appunto io l'ho pagato 29,99 e ho preso la 38 veste molto bene è un leggermente appunto elasticizzato però appunto mi serviva mi serviva un jeans anzi in realtà mi servirebbe un paio di jeans perché devo buttare mi sembra un 2-3 paio di jeans che ho perché li ho praticamente bucati da quando te li ho essi l'ultima cosa che vi faccio vedere sono negli Yankee Candle perché c'è appunto per la festa della mamma lo sconto adesso non so quando pubblicherò questo video ma credo che lo sconto non ci sarà più io l'ho preso in questo negozio qui che si chiama cart cart allora ho preso una tart ed è il tobacco flower e credo che sia nuova questa qui è molto molto strana come odore perché in teoria ci sono sopra dei fiori quindi dovrebbe essere tipo floreale ma non sarà proprio di fiori cioè non è tipo quel tipico floreale di Yankee Candle ha proprio un odore strano diverso però proprio per questo mi è piaciuto e poi è red raspberry gliel'ho presa perché era l'ultima di tutte le cioè non c'erano altre giare così né più grandi e non c'erano né le tart né quelle piccole e di questa qui era proprio l'ultima e allora l'hanno usata madonna è buonissima è qualcosa di fantastico mi ci sono innamorata e ho detto no basta la prendo perché mi piace un botto ed è proprio questo odore di sì è di raspberry ma proprio mielato non lo so caramellato insieme a queste due ho pagato 9,90 se vi ho fatto vedere tutto quanto spero che questo video vi abbia tenuto principalmente in compagnia se anche voi avete fatto shopping recentemente scrivetemelo qua sotto vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao